buonasera 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 sono stanco non avete idea di quanto io sia troppo 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 ma ma il fatto che siamo qui indicativo di quanto ci teniamo a voi ma che siamo anche comunque vi vogliamo bene e di quanto ci teniamo a tutta questa cosa è questa cosa che è la vita beh questa a quanto ci tieni alla vita era questo il messaggio che sta vedendo con fiorenza che ho dovuto lasciare di là a vederselo da sola questo nuovo questa nuova cosa che è uscita su netflix che si chiama tipo i cliché dei film una roba del genere hollywood cliché ma ma anche non è mega approfondito è a monnezza no è questo ma l'italia sta giocando l'italia sta perdendo un cazzo ragazzi se dovete parlare di calcio con qualcuno nel canale slim dogs al massimo dovete parlare con adriano santucci con la spagna ma pensa pensa guarda adesso ci si è pure fatta spelle ma be madonna dai ma che davvero ma davvero guarda adesso non berrò più il vino questa sera non non è vero invece stasera non solo bevo una buona bottiglia di una fratta questa me l'hanno regalata me l'hanno regalata pure una regalata martina martina non la mia martina ma un'altra martina è piena di martina sto mondo regalato martina una ragazza con per cui poi abbiamo registrato una puntata di un podcast io e gianni come io e gianni non come io e gianni slim dogs ma come io giovanni santo rito e gianni che si chiama pure giovanni fra l'altro dai ma no giovanni in realtà esatto da rienzo abbiamo registrato questo podcast con martina e abbiamo parlato di musica non appena uscirà il podcast velo lo faccio sapere siccome lei a lavora e ha a che fare col vino nella sua vita gentilmente mi ha mandato questa bottiglia di cavernes sa vigno che adesso assaggiamo allora questa sera di che cosa si parla mauro zingarelli di cosa si parla scherzo si parla di 0 0 7 dobbiamo dirvi tutte le cose che non vi ho detto su allora però bisogna dire prima tante altre cose giusto cominciamo con la cosa base se si parla di 0 0 7 poi facciamo un piccolo escursus nella nostra vita qual è il tuo 0 0 7 preferito io sono estremamente ignorante perché ho praticamente per bene ho visto solamente quelli con daniel craig sei una becca non sei vergognoso non me li sono mai visti per un motivo per l'altro mai capitati a vergognosissima una penna dannazione e quindi il mio preferito rimane casino royale che però penso sia il film si è generale considerato uno dei migliori è la cosa che trovo strana ripeto è che l'abbia fatto lo stesso lo stesso reggisario solo che adesso ne parliamo di questa cosa diciamo che casino royale è sicuramente il migliore da quando perché 0 0 7 ha avuto uno stop lungo adesso non mi ricordo intanto sono arrivate 50 euro da silvia 75 12 usate ragazzi ringraziamo il resto del mondo però intanto silvia 75 12 con 50 euro se non sbaglio a parte che c'era una benedetta dea che volava non so se l'avete notato io sono molto orgoglioso di queste nuove animazioni che abbiamo e c'era benedetta dea che volava queste 50 euro se non erro si accaparra la maglietta una maglietta fantastica si accaparra la maglietta è tutta una serie di cose che adesso per un attimino non vi elenco di nuovo tutti i reward perché sennò qua sai che adesso torna di nuovo matteo a fare la questione che stai vendendo le pentole ho capito però dobbiamo dire alle persone cosa stiamo facendo no quindi con 50 euro scusate sì lo sto andando a cercare perché non me lo ricordo cosa si accapa 50 euro e c'è la presenza del nome di titoli di coda la colonna sonora digitale la maglietta esclusiva dedicata al corto quale corto quello è lo short movie live che stiamo facendo questo progetto pazzesco che stiamo facendo qui su twitch in collaborazione con il buon francescuzzo saidonia e chiaretta o chiara perché se magari chissà si arrabbia se non la chiama chiaretta io la chiamo questa cosa di diminutivi pure fiorenza la chiama fiorella fiorella e lei si arrabbia tantissimo però ieri per farmi perdonare gli offerto una bottiglia di vino cioè da buono sommato è andata bene e qui perché lo chiama fiorella due volte e quindi questo progetto di questo cortometraggio per cui già abbiamo fatto diciamo abbiamo concluso la prima parte cioè la scelta dell'idea adesso si sta svolgendo la seconda parte cioè la sceneggiatura a porte chiuse dentro i nostri incredibili studi a saxarubra della slim dogs si sono già svolti degli incontri per quanto riguarda la sceneggiatura questi incontri poi ovviamente vi faremo un sunto o comunque parleremo anche con voi perché stiamo lasciando dei punti aperti in una live che faremo probabilmente a novembre sulla sceneggiatura per questo short movie live questo corto che realizzeremo da qui a fine dicembre inizio gennaio adesso non si sa bene qual è il periodo perché siamo in preparazione c'è un cacchio di crowdfunding però perché c'è un crowdfunding ovviamente il budget del cortometraggio sarà sulle spallucce della slim dogs per la maggior parte ma il crowdfunding ci permette intanto a voi di partecipare in qualche modo in maniera attiva al finanziamento di questo corto e ci sono tutta una serie di premi di non premi premi è sbagliato di reward di ricompense che potete sbloccare io per aprire questa bottiglia che mi sono appena affettato un dito di ricompense che potete potete sbloccare facendo tutta una serie di donazioni se fate punto esclamativo dona c'è sia il comando per donare che il sito internet dedicato dove c'è l'elenco di tutti i reward detto questo intanto vi faccio vedere nicola dc 89 nicola dc 89 ha appena donato altre 50 euro quindi anche per nicola nome titoli di coda colonna sonora e non abbiamo a schermo il l'obiettivo donazioni non abbiamo a schermo l'obiettivo donazioni perché io oggi ho fatto 500 cose e su 500 cose una magari da scordi fare queste 500 cose vi faccio un piccolo spoiler che in realtà non è uno spoiler perché siamo nella fase di scrittura però dovevamo sbrigarci stiamo anche nella fase di preproduzione oggi siamo andati a incontrare il team che dovrebbe occuparsi della scenografia e abbiamo visto laboratorio dato che è un cortometraggio post apocalittico quindi sarà tutta una serie di cose da costruire costumi le cose eccetera e vi voglio far vedere una delle reference che io ho dato a queste persone per per fargli capire lo stile che avevo in mente più o meno come concetto vediamo se riesce a mettere a fuoco bello questa roba del genere a me piace molto e questo genere di roba che andremo a fare quindi insomma il vostro aiuto economico ci servirà non tanto per la realizzazione in sé per sé ma per arricchire quello che sarà il progetto perché per esempio oggi parlando con col team dietro a scenografia e costumi quello che c'è stato detto è stato capiamo a seconda del budget possiamo possiamo decidere se comprare cose già fatte trovare una maniera di farle diventare come servono a noi oppure poter fare da zero effettivamente tutte le cose che ci servono esattamente come le vogliamo noi quindi insomma questa questa è la questione mi aspetto delle miniature avvalanga questo dipende da da 4 raga e miniature costano allora intanto adesso ci abbiamo il come cavolo si chiama il gol a schermo sono 1600 e rotti euro con un gol che dovrebbe essere 5.000 intanto silvia 75 12 appena regalato 10 abbonamenti ovviamente anche gli abbonamenti ci danno una mano ma per avere i reward quindi i perks i brevi le cose per lo short movie live punto esclamativo dona potete donare e avrete le varie cosette dove purtroppo è escluso una foto di mauro a petto nudo quello era una prerogativa delle sei del pomeriggio di qualche anno fa purtroppo questa bella abitudine per molte e non per me ma perché in realtà ero lo stretto fai l'immigratato era abitudine adesso faccio un come dire poi ci mettiamo davvero a parlare di no time to die e di tutte quante le cose no no dai no che ancora non l'ho visto se ne parla beh io l'ho visto offrirò la mia chi chiude il microfono non se non mi che faccio spoiler lo sai che non faccio mai spoiler stavo dicendo c'è stato un breve periodo per chi non sapesse io dove sei andato al piano di sotto in cantina no sono andato pensavo in cantina ragazzo a terra in cui verso le sei su instagram giovanni faceva sempre una una storia in cui ero a petto nudo perché qual'era la questione perché poi sembrava una cosa randomica qual'era la questione era cioè è nata come randomica poi a una certa arrivavano i messaggi ma la storia cioè se si facevano tipo le diciotto e cinque minuti arriva a chiedere ma la storia in mauro a petto nudo dov'è ma perché questa realtà perché sembra una cosa randomica ma in realtà non era così perché in quel periodo era il primo periodo in cui stavo uscendo con fiorenza e spesso dopo slim dogs dato che lei abita si faceva mi vedevo con lei e quindi spesso verso quell'orario l'orario in cui mi dava una sciacquata come potevo perché ovviamente ero stato tutta la giornata in ufficio e non ero faceva bello ragazzi e quindi esatto che stavo facendo bello per fiorenza e questo discorso adesso fortunatamente qui e quindi non c'è già casa e quindi quindi non c'è più bisogno di farlo da casa se il classico uomo che una volta presa la donna dice vabbè adesso posso ricominare magna a vestimi a cazzo dei cani o andiamo avanti così io ho problemi secondo me non è giusta questa cosa sia per gli uomini che per le donne perché pure le donne fanno questo questo giochino è una cosa che fanno sia uomini e donne tutte belle tutte fighe come tutti belli tutti figli al momento dell'accalappiamento e poi escono fuori i pigiami di pile ma andiamo avanti allora 007 mauro zingarelli prima di sviscerare quelle due tre cose che tu ti sei tenuto da parte per poterne parlare questa sera parliamo un po di in generale del mondo i 007 mondo che io amo tu perché non ne hai mai visti ti mi verrebbe da chiederti cosa non ti ha mai fatto interessare al mondo di james bond intanto grazie scusa a moro 14 697 per aver donato 100,50 centesimi di euro e si acchiappa l'anteprima al cinema chiedo a moro 14 697 di scrivere per favore in chat perché nel messaggio non c'è se vuoi l'anteprima di milano o l'anteprima di roma oppure nessuna delle due e dici raga 100 euro con tutto il core ma l'anteprima non ci voglio venire e va benissimo però se c'è io posso dire che grazie effettivamente la scusa poi parliamo solo di quello però voi fate anche domande se volete su questa cosa la short movie io vi rispondo per quanto posso senza senza spoiler arbitro un caso di muto esatto allora aspetta mauro a tutti i reward moro ha chiesto così gianni gianni giacomo se lo segna che sta qui a moderare la vita moro 14 697 vuole l'anteprima di roma quindi per favore giacomo segnatelo efficienti a mandare mail le cose non stavo dicendo ovviamente nel senso non voglio sminuire quelli che hanno che doneranno di meno perché ogni qualsiasi cosa anche un euro aiuta però effettivamente il reward quello dell'anteprima il mio preferito perché ovviamente ci possiamo incontrare ragazza non solo per come sta mettendo la il mercato del cinema difficilmente quando io e non se quando io farò la mia opera prima il film potrà andare al cinema probabilmente sarà quindi dice almeno questo sarà distribuito su un coso su una piattaforma di merini va bene e quindi sono successo non vedo l'ora di proiettare questo cortometraggio in due cinema perché sia a milano che a roma e la maglia noi saremo ne allora non saremo saremo ovviamente al cinema saremo tutti la slim dogs tutti 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 saremo sicuramente a milano a roma a milano non lo sappiamo ancora saremo tanti ma probabilmente non esattamente tutti e poi succedere può succedere no io figurati io ci vado quello senza dovevo sapere aspetta cos'era domanda di un certo muovi ci sarà un pelapatate solo elettrico solo elettrico ragazzi scusa non ritirate fuori quella battuta che ha fatto gianluca l'altro giorno perché se no ricomincia a ridere come un non so se qualcuno ha clippato io riso tipo ben cina e mandato di tele che era molto divertente ma se litte l'elietta dona 50 euro e dice una bella magliettina e la musica l'accetto volentieri questo piccolo contributo è per liberare la creatività di mauro e di tutti gli sling dogs grazie mille è proprio vero una cosa che ci fa molto piacere dai mauro comincia quindi 007 perché nel nel tuo mondo cinematografico non c'è mai stato posto per james bond perché io da ragazzo sono sempre stato allora solitamente di tutte quante le persone che io conosco che hanno visto james bond molti james bond roger moore sean connery eccetera eccetera sono sono quasi tutti quanti quelli con cui ho parlato anche fiorenza gli hanno visti i propri genitori hanno specifico proprio padre c'è nel senso anche marco mi ha detto io per esempio i genitori vede tutti mio padre con mio zio e e quindi è un film molto padre figlio perché è quel film d'azione che il padre tramanda il figlio perché come dicevi tu c'è stato un grosso blocco di mezzo in cui non è successo un cazzo perché i james bond hanno iniziati a fare li hanno ricominciati a fare negli anni 90 poi con con golden eye e poi con denier craig e quindi ecco quelli che non erano film degli anni 60 70 che uno vedeva e che i nostri genitori avevano molto chiaro in mente e mio padre non era un grande passione di james bond o quanto meno se lo erano che toccarsi con me evidentemente e quindi non li ho mai beccati quando è uscito casino royale mi è piaciuto tantissimo e infatti poi casino real avrò rivisto 450 volte però per un motivo per l'altro quelli quelli precedenti non mi sono mai arrivati a tiro ecco io sento che sono quei film che devi un po vedere in età giovanile per apprezzare cioè sono quei film che poi per carità io mi vedrei qualsiasi cosa è però per una questione di tempo ecco un po questo il discorso io mi ricordo io purtroppo c'ho la stessa cosa nel senso anche io l'ho visto sempre con i miei genitori era quel film sai ero piccolo si va a letto una certa ecco 007 era quel film dove mio padre mia madre ci dicevano stasera vediamo 007 tra l'altro mio padre del cinema non gli è mai fregato un cazzo a mia madre neanche infatti non so da dove sono uscito ma quella è un'altra storia e quello era l'unico film l'unico tipo di film che ci si sedeva a guardare si vedeva fino a tardi e c'era sempre la discussione ma guarda questo guarda quello guarda quell'altro e io l'ho conosciuto ma come cazzo hanno fatto e io l'ho conosciuto a sean connery perché il bello di 007 erano mi ricordo le prime volte che lo vedeva erano tutti i gadget che tirava fuori il signor q no che è il diciamo lo scienziatone di l'attore è rimasto esattamente lo stesso fino a daniel craig esatto fino a daniel craig è sempre stato lui cambiato è stato skyfall perché è morto fra l'altro lui è morto quindi una delle judy dance pure era veniva dal passato c'era un collegamento col passato però q era l'unico collegamento costante che era l'unico l'unico attore che è stato sempre lo stesso identico nonostante i cambi di attore fino a la formula 007 è sempre stata la stessa fin dall'inizio il primo si chiamava adesso io ragazzi non mi ricordo i numeri di tutti e 25 perché siamo arrivati a 25 il primo era licenza di uccidere e poi l'ultimo appunto no time to die si sono 25 c'è stato un blocco assurdo un blocco assurdo diciamo il blocco più lungo è stato dal 1989 fino al 1995 c'è stato un periodo che uscivano quasi ogni anno fa 62 63 64 65 67 69 71 73 poi ogni due anni ognuno e poi c'è stato questo blocco assurdo che segna proprio il cambiamento totalmente james bond dove timothy dalton trovo scritto qui lascia spazio a pierce brosnan e poi il ulteriore cambio proprio del personaggio letteralmente lo fa daniel craig perché il personaggio in realtà è stato interpretato da appunto sean connery george la zenby che ne ha fatto uno poi di uno sean connery roger moore timo di dalton pierce brosnan e daniel craig e il personaggio è cambiato in realtà tantissimo con daniel craig beh perché daniel craig viene dopo batman begins ragazzi io purtroppo non vi voglio di non voglio fare il solito fanboy di nolan però è vero è vero è vero batman begins dark knight hanno fatto un cambio completo di quello che era l'idea cinema d'azione e tutto è diventato realistico noi anche deve essere realistiche anche tutto un'altra questione il politically correct che negli ultimi anni è diventato molto presente no c'è james bond soprattutto agli inizi era proprio quello arrivava oddio c'è una donna finiva come finiva c'è sempre stato così la donna nei vecchi james bond è sempre stata vista era molto vista anche come un po una donna oggetto no è comunque era necessario un cambiamento negli ultimi james bond da nel craig la cosa che a me piace e che questa cosa non è necessariamente cambiata è semplicemente adesso evidenziata come un difetto del personaggio esatto non è più una cosa positiva mentre fino all'altro ieri era una cosa che succedeva ed era una roba ficca adesso semplicemente negli ultimi film si è passato a come dire ok si questa roba lui la fa però un problema c'è lui ha un problema con le donne ed è evidente decisamente intanto chiara da altri 50 50 euro per essi e si prende una maglietta altri 50 euro per lo short movie live allora quindi ovviamente vi ringrazieremo tutti uno ad uno assolutamente quindi tre di coda ci dicevamo il migliore il migliore james bond tu parla di vedere idris elba che fa james bond io vorrei tantissimi ma sai che noi se idris elba james è inglese idris elba certo perché perché james bond deve essere necessariamente britannico non conoscevo vedere idris elba nei panni di james bond sto vedendo tu stai dicendo che casino royal che poi paradossalmente casino royal il che è il ventunesimo leggo qua è quello tratto dal primo libro di james bond diceva tra l'altro c'è una storia particolarissima riguardo mai cosa perché casino royal è il primo libro di james bond e non è il primo film di james bond per una questione legale si nel verrà all'inizio stimo e vai la so a tratti quindi se ne so però però praticamente il concetto fu che rowan atkinson il prossimo già fatto johnny english se non sbaglio praticamente il concetto fu che questo libro all'inizio non era famosissimo che questo libro il primissimo casino real i diritti vennero acquistati da un magnate russo se non ricordo male insomma qualcuno che non mi ricordo per via di quale scommessa era una persona che scommetteva molto disse vabbè ok se succede questo mi compro i diritti del primo libro che trovo in libreria e andrò in libreria e trovo questo giusto non te ne compro i diritti per una cifra e ristoria tra l'altro di 8 mila dollari 10 mila dollari una cifra e i diritti quindi diventarono di questa persona e il primissimo film di james bond in realtà non è con sean connery che tra l'altro il primo film di james bond allora quello quello dicendo davanti è licenza di uccidere con dottor no quello che porta il nome james bond quello che fa parte della saga poi se non sbaglio ne avevano fatto un altro che però non doveva c'era tra l'altro dottor no dottor no sì 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 è il primo quello quello con sean connery ce n'era un altro che avevano fatto e ce n'era un altro che aveva fatto ispirato al libro di john fleming dove il personaggio dove essere è proprio james bond però non lo chiamarono proprio james bond per tutta una serie di cazzi adesso al momento onestamente non ricordo intanto grazie leonora cali 99 per aver donato 5 euro ecco qua benedetta che vola è bellissimo vedere benedetta che vola ragazzi e poi appunto il primo fu fu dottor no che diede inizio a questa saga pazze io l'adoro sta saga non sono il cofanettone in blu ray che arriva il mio cofanetto in blu ray arriva a spectre che non è quello qui james bond 0 3 7 casino royale è un film del 67 diretti il primissimo e il primissimo e james bond vediamo un po vediamo se riesco a beccarlo ed è david david niven sir james bond ed era un attore un attore inglese mi allo ricordo per qualche altra cosa e praticamente il concetto trato c'era orson wells faceva le cifre pensate a ecco questo film c'è una follia e niente semplicemente quindi questi 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 diritti sono rimasti in mano a questa persona fino a tanti anni quindi i diritti di casino real sono ritornati alla famiglia broccoli sono gli stegli barbara broccoli e l'attuale produttrice quella che detiene quale produttrice il 50 per cento dei diritti perché metalli ha venduti a ce li ha besos sì ormai appresi con la ing è sempre però insomma il discorso dell'assurdità è che il film primissimo libro di casino real e primissimo libro di parlare ragazzi scusatemi il primissimo libro di james bond paradossalmente è il betunesimo film esatto e per te il tuo preferito io essendo vecchio ed essendo affezionato per ignoranza ma guarda il mio preferito rimane sempre so è noioso rimane il primo perché a me se piacciono tre tre bond a me sono piaciuto tantissimo sean connery roger moore e daniel craig perché pitt rosnam l'ho visto sempre come una sorta di sostituto agli altri perché il personaggio era più o meno lo stesso i film erano molto più cacciaroni molto più action esagerati ci ricordiamo tutti la scena nella morte il domani non muore mai sì il domani non muore mai no 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 era la morte può attendere diana der daisy quello dove c'è la colonna sonora di madonna c'è anche un cameo di madonna dove lui surfa nell'artico con questa onda pazzesca dietro e lui surfa in maniera strana su quel ragazzo di onda ed era veramente agghiacciante quella roba non si poteva vedere c'erano diversi film diverse scene i film con pierce brosnam che erano quell'azione particolarmente esagerata che potrebbe finire degnamente su un fast and furious ma non dentro james bond anche perché in qualche modo avevano tra virgolette soprattutto con diana der day un po messo da parte quella diciamo quella tradizione che fin di james bond hanno sempre avuto che con quelli daniel craig è tornata cioè il fatto che qualunque fosse l'azione vista a schermo era sempre reale ovviamente non c'era sempre l'attore o brosnam o craig o conneri o altri a interpretare proprio james bond perché c'erano vari stuntman che prendevano il posto dell'attore principale però ogni volta che si vedeva una roba assurda era stata ripresa davvero e la e c'era sempre la presenza umana con brosnam alcune di queste cose cioè diciamo questa tradizione è stata un po smontata per rendere alcune scene un po più spettacolari e questo però hanno fatto cadere infame hanno fatto cadere un pochino la situazione l'hanno fatta cadere un poco sul trash perché c'erano certe situazioni veramente trash quanto la cosa bella c'erano anche quelle scene assurde tipo il bungee jumping dalla diga si è veribile invece dove sono time to die ma è fatto davvero no no quello sulla diga quello non in no time to die quello quello con brosnam in in golden eye penso fosse che fa così dalla diga e si lancia giù a dove c'è la si ok adesso mi ricordo è da fuori la però molte erano fatte comunque in cgi aiuta cioè la cgi aiutava parecchio poi in golden eye c'è pure un carro armato che cammina e spacca tutto davvero vabbè comunque esatto quello però è fatto davvero sì sì però alcune cose erano fatte in cgi cosa che nei film di bond non si era mai fatto cioè di solito è che dobbiamo fa quello e lo facciamo dobbiamo fare quell'altro e lo facciamo ci mettiamo ovviamente lo stand perché non ci possiamo giocare a james bond in due secondi però lo facciamo e invece con casino royale tutto ciò è ricominciato addirittura la sequenza d'azione iniziale in casino royale io sono in canna quella ce l'hai allora mauro ti prego parlane allora parliamo un po di casino royale ragazzi allora un attimo vorrei fare una precisazione su casino royale quello giustamente facevano notare in chat quello del 64 casino royale è una parodia nel senso è una sorta di insulto alla famiglia broccoli che non poteva fare casino royale e quindi fecero una sorta di film parodia di casi di day 007 che stanno facendo con sean connery facendo proprio casino royale il primissimo casino reale del 54 ed è un film tv andato in onda sulla cbs e il le cifre lo faceva peter lore tra l'altro pensate un po e se non ricordo male in questa versione james bond americano perché interpretato da barry nelson quindi casino royale hanno fatto tre volte che volevano praticamente inizialmente adesso è d'obbligo come deve essere inglese punto e basta beh sì io vi parlo dell'inseguimento del cantiere perché mi sa che è stato completamente eliminato il blocco sull'inseguimento se non ricordo male dal dal video si non mi pare mi pare che non se ne parla quando l'abbiamo rivisto su editing in cilio non ho sentito parlare cosa che in live non l'ho visto però onestamente un po mi ha stupito perché il tizio a quel poco che poi tu la racconti tutta il tizio che fa c'è la scena di parkour praticamente è il tizio che scappa e daniel craig lo insegue è quello che si è inventato tra virgolette quella che è la pratica appunto il parkour cioè il modo di correre evitando gli oscar gli ostacoli senza mai fermarsi quindi scavalcandoli saltando in maniera assurda è proprio lui no mauro e tu eri appassionato di parkour l'hai praticamente io ho anche fatto un annetto e qualcosa di parkour i miei impegni hanno portato la mia come dire la mia vita da un'altra parte però ero come dire molto vero dei miei piccoli precision però non mi hanno mai lanciato da un palazzo all'altro ma se facciamo della scena è pazzesca e pensata che davvero è fatta da allora nello specifico con l'inseguimento lo fa il nostro amico sebastian fukan che insieme a david bell l'inventore se così si può dire del parkour perché non è che l'hanno inventato non è che come dire sono svegliati un giorno però era una pratica sportiva che loro hanno fondato tra virgolette nel senso che hanno iniziato a a diffondere sempre di più nello specifico ripeto david belle sebastian fukan erano proprio i due le due persone che hanno portato avanti questa cosa e nello specifico fukan è l'inventore quello quelli che ha coniato il termine free running free la parola francese per cura termini francese lui è francese tra esatto perché una pratica francese che si sviluppa a parigi e lui per la prima volta in un intervista non gli viene chiesto come si traduceva in inglese con il termine free running quindi insomma era proprio lui era proprio il la persona che di parkour ne sapeva di più tanto se vi piace il parkour vi consiglio di vedere come si chiama brick mansion che è il remake di un film francese che si chiama distretto 13 ma io sarebbe francese francese come si dice cosa 13 13 3s 3s distil 3s no 3 era no era ballio 3 ballio è quartiere ballio è più che altro periferia viene viene utilizzato quando si parla della periferia che se volete vedere un film col compianto brick mansion è un compianto col compianto paul walker e david bell che fanno delle belle in quel fine fa della roba tanto intanto volevo far vedere ragazzi pezzettini della scena ce l'abbiamo qua la stiamo vedendo mauro e stiamo vedendo anche un pezzo della chat che non dovremmo vedere quindi vabbè vediamo diciamo che il il la scena è fatta davvero nel senso sebastià fucano le sa fare queste cose e la cosa incredibile di questa scena adesso tanto salutiamo marco cioni marco cioni che sei scritto per il quattordicesimo mese non riusciamo a liberarci di questo personaggio va bene magari donna dei soldi per lo short movie è per esempio vabbè stavi dicendo marco cioni con due c non so se è il nostro sì 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 è il nostro è il nostro comunque stavo dicendo il la cosa di questo inseguimento che lo rende molto molto bello puntista cinematografico oltre che come cazzo hanno fatto tese e che è una maniera un'ottima maniera di introdurre il personaggio di james bond tramite la sua fisicità all'interno dell'inseguimento c'è il james bond e nel craig è un james bond che non la manda a dire quindi è uno molto violento non la manda a dire mazzato elettro adesso termine non è un come dire uno molto fisico è uno un po un po rude un po burbero e la scena allo e semplifica molto bene cioè fa vedere che il rispetto all'eleganza di fucane che salta si lancia eccetera eccetera invece james bond va dritto come un treno sfonda le cose spacca i muri quindi cercherò di essere il più il più sostivo possibile come hanno fatto quella male quella roba lì è girata le bahamas ok quelli in quella scena lì e le bahamas sono un una tradizione per i film di james bond nel senso è una location nella qua nella quale sono andati varie volte perché insomma è una location molto esotica è un po che rimasta nella tradizione james bond ora il problema delle bahamas che non c'è molto e il grave problema in generale del cercare di girare in un cantiere e che molto spesso racconta dei produttori quando vedi un cantiere durante lo che c'è un scouting poi quando arriva il momento di girare il film solitamente ormai il cantiere non c'è più perché non è come in italia ma non è come in italia no aspetti in italia dove di un cantiere stai sicuro che due tre anni sta ancora là fortunatamente le bahamas evidentemente sono un po come l'italia perché quello è ora era un cantiere che loro avevano visto facendo il location scouting dei di uno dei film che è apparso di uno dei film con con brosnan intanto grazie a luca di fra per aver donato 50 euro grazie a luca mille e stavo dicendo avevano visto questo cantiere in una location in un location scouting per un vecchio 007 e anni dopo quando sono andati a fare casino reale era ancora lì e quindi sono resi conto che era un cantiere abbandonato ora qual è il problema essendo un cantiere abbandonato non era più in costruzione e quindi era una carcassa vuota e quindi loro hanno dovuto importare dall'america tutte le travi di acciaio per costruire la finta struttura in costruzione perché alle bambas non c'era niente quindi sono dovute far portare dall'america queste gigantesche travi d'acciaio le gru le cose hanno rifatto hanno ricostruito il cantiere tanto scusa mauro volevo rispondere a verdiana che dice se dono più di 25 euro in due tranche ricevo lo stesso le ricompense previste allora abbiamo già risposto a questa cosa scusate faccio questo piccolo assunto perché molte persone dicono ma se ve li se ve li invio piano piano allora ragazzi faccio un finanziamento per diversi motivi intanto grazie verdiana anche solo per averci pensato per avere l'intenzione di volerci aiutare nel progetto e cercare una soluzione però poi diventa molto complicato rattenere le fila perché fortunatamente le donazioni ci sono eccetera diventa complicatissimo quindi ti chiederei la cortesia di metterti questi soldi da parte cioè non c'è bisogno che li doni subito 50 euro tanto questo coso sta qua fino a novembre fino a fine novembre quindi tieniteli da parte quando riesci ad avere la cifra che ci che vuoi vuoi versare tutto in una volta la butti dentro eccetera scusate ragazzi però se no veramente diventa un casino poi pensate gli dice sì no dice raga io voglio arrivare a venire all'anteprima che mi pare 100 euro vi do 5 euro alla volta non la finiamo più quindi dai grazie allora di sapere chi saranno le quattro persone invece che saranno sul set con noi è quello quello che sono 500 euro possono venire con noi sul set non vedrà di prendere queste quattro persone e metterle in cabina di regie di riguardo a te bella questa cosa qualcuno con cui vantarmi delle mie cose delle migliori grazie perdiamo scusate ma ragazzi purtroppo dobbiamo fare così vai avanti con questa dicendo quindi questa è la questione dopo di che ricorderete l'avrete non so se è passata la parte in cui con un bulldozer insegue aspetta la nostro amico e a un certo punto semplicemente sfonda un pezzo di muro punto e basta perché non sa bene come fare è sì a me faceva molto ridere questa cosa è una parte molto bella ripeto è una parte che serve a spiegare chi è james bond c'è noia fa il suo atteggiamento lui arriva e spagna la protesta e quindi praticamente in in quella in quella parte quello che hanno fatto è stato prendere un pezzo del cantiere dove mancava già un pezzo c'era proprio c'era un insenatura c'era una rientranza fatta apposta non era un non era un errore non era collato niente c'era semplicemente una rientranza chiamolo buco fallo facile non sai parlare poi ricerchi cose complicate quindi praticamente eccolo hanno hanno fatto in quel buco hanno aggiunto una un finto pezzo di parete fatta apposta per l'occasione e quindi il concetto è che tutto il resto del della parete tutto il resto del muro era solito cemento solido quell'unico pezzo in cui il bulldozer si infila dentro era fatto di di gesso e in generale così poter entrare finto muro deve entrare senza farsi male per entrare e entrarci dentro senza sfondare però questo vuol dire anche che come dire un angolino molto molto preciso contro il quale si deve andare a schiantare e tra l'altro oggi mauro io poi ti devo fare una domanda su che non so se ne hai hai trovato qualcosa nelle due ricerche però posso che stavi dicendo tra l'altro stavi dicendo a nostro dicendo tra l'altro i ragazzi oggi mi vedete particolarmente stanco perché è la seconda volta che sto facendo questa cosa oggi a vero pomeriggio ne abbiamo girato e noi episodi come cazzo hanno fatto vero andrà in onda il 15 una roba del genere e quindi oggi tutto il giorno che spiego cose davanti a una macchina da pesa sono un po esaurito perdonatemi quello che questo motivo quello che ti volevo chiedere adesso ai ragazzi ne faccio vedere un pezzo una delle enormi particolarità di 007 sono gli opening cioè la la sigla iniziale che qui non ho notato stavo facendo vedere che a volte dimenticato ci possono essere delle signorine in nude meno male che non si vedeva e appunto sono gli opening degli 007 che sono famosissimi no sono proprio particolari c'è in realtà all'inizio del film ogni volta ogni 007 io aspetto che ci sia il piccolo prologo iniziale fra l'altro il primo il primo opening comincia con quella con quell'animazione che è diventata letteralmente iconica di 007 cioè il pallino bianco che si muove lo zero che poi diventa appunto il la pistola e poi c'è 007 in fondo che si gira e sparano e c'è la colata di sangue che quello è assolutamente conico di 007 c'è qualcosa di particolare a sapere su questi perché inizialmente erano qualcosa di particolarmente interessante però non c'erano sempre dei cantanti famosi o performer famosi fino ad arrivare agli ultimi degli ultimi anni dove invece c'è c'è stata del ci sono stati garbage adesso nell'ultimo con un pezzo che a me non piace ma quello un altro discorso c'è addirittura è bello no no fa cagare male non ma ma una cosa mia ha girato e non mi piace comunque c'è no allora in particolare io ti dicevo che era forse una cosa che ti poteva poteva creare perché magari non allora che non ne so niente dello specifico quello che sicuramente so è che gli anni 60 sono stato il periodo d'oro delle sequenze da di titoli di testa nel senso i film di hitchcock in generale i film degli anni 60 c'era c'era un sacco di animazione fatta in quella maniera e quindi semplicemente io credo che si è andati a spingere 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 fino a che è diventata una tradizione poi quando una cosa diventa una tradizione devi fare sempre one apple col film precedente secondo me una delle delle degli opening più più interesse per via perché è abbinata a un film di merda e another way to die però la musica però la musica bella a me esatto a me piace tantissimo another way to die con i white stripes e il pezzo il pezzo è fighissimo il pezzo è fighissimo però purtroppo quando il film è il film è orribile e quindi non se lo ricorda nessuno il film è brutto quanto uno solace che fra l'altro è quello preferito di adriano santucci quindi lascia ed è il più brutto di merda solace vai spara parmi e parliamo di quanto un solace un po allora quanto un solace fa cacare giusto si è bruttissimo è quel c'è allora è il più brutto è quello che se non ricordo male avuto avere diversi problemi c'è proprio un perché io me ricordo uno ma di lote di lote allora praticamente in quel periodo ricorderete se guardate serie tv qual è stato il famoso anno dello shop ci fu un famoso anno quello in cui se vi ricordate bene tutte quante le serie tv hanno la metà degli episodi si lost era la quarta stagione di lost mi pare che si riduce proprio a 6-7 theory non c'era ancora break in bed pure c'è una serie di problemi insomma un sacco di di robe ebbero dei problemi perché ci fu lo sciopero degli sceneggiatori di sceneggiatori semplicemente per mesi si rifiutarono di scrivere perché perché volevano dei maggiori diritti insomma maggiori tutele eccetera eccetera e questo vale anche per 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 quanto maf solace che ebbe dei problemi perché il film non era finito e inizio la sciopero degli sceneggiatori e cosa succede quindi che comunque secondo le regole di hollywood la la sceneggiatura di un film lo può scrivere solamente uno sceneggiatore iscritto alla writers guild o l'albo tipo degli sceneggiatori il si è la la come si dice il sindacato il sindacato dei giustamente verosa vere o side dice lo dite anche a quelli della casa di carta che lo sciopero è finito da un po ma guarda ce ne sono tanti a cui dovremmo dirlo anche a quelli cruella lo sciopero è finito un po ma andiamo avanti in realtà adesso lo sciopero è c'è uno sciopero in atto di tutti quanti i lavoratori in america nel senso proprio delle crew perché non vogliono più che vengano fatti orari da quattordici ore perché rischiano di morire ma quella da una certa sanno ragione ma ne parleremo poi quindi proprio per quello non c'è comunque ma chi non si può tasta sceneggiatura allora quale è esatto e questa è la cosa interessante tecnicamente secondo le regole le ad hollywood nessuno poteva scrivere questa sceneggiatura ok se non che c'era un cavillo legale ovvero secondo un cavillo legale le uniche persone autorizzate a scrivere la sceneggiatura sono regista e attore principale questo cavillo la sceneggiatura non scrive la sceneggiatura lo scrive lo sceneggiatore però nel caso in cui ci siano delle scene che vanno riscritte l'attore vuole riscrivere le proprie battute o modificare parti della sceneggiatura perché vuole 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 fare delle cose diverse quelle che sono scritte loro lo possono fare non devono necessariamente essere scritti al barbo degli sceneggiatori possono farlo in quanto il gista è un attore principale protagonista si è quindi di fatto considerando che quelli due erano le uniche persone che potevano che la sceneggiatura la sceneggiatura fino a riscriverlo il regista e e daniel craig e non è uno sceneggiatore lui lo sa dice io ho fatto cacare questa esperienza in cui però l'unica persona che poteva farlo e quindi semplicemente il motivo per cui voto uno solace è molto 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 carente dal punto di vista di sceneggiatura perché il prodotto non è che è brutto e che non si capisce un cazzo c'è mai di quantum of solace e che al di là di essere banale in quello è che non si capisce niente la trama è confusa e non si capisce nulla e il motivo è questo perché lo dovete scrivere una persona che non sapeva scrivere io volevo far vedere un attimo ritornando a casino royale adesso non voglio parlare solo di greg però una delle scene che mi piace di più di casino royale è la scena d'apertura dove ci sono le botte in quel bianco e nero sporchissimo che sono ma quanto cazzo si menano cioè percepisci proprio che se stanno a menare male fra l'altro c'era c'era un'intervista di santa maria perché sapete che santa maria pure ha fatto una piccola parte in casino royale perché giustamente loro girando in italia hanno degli obblighi verso l'italia no tutta la scena finale italiana del giappone ragazzi quante cose vi devo raccontare ancora del giappone tutta la scena finale italiana è a venezia e quindi c'era un attore italiano e c'era santa maria santa maria in un'intervista dove dice vabbè io non c'ho una battuta però sto su uno 007 e meno daniel craig dice che ci hanno avuto uno scambio di battute perché santa maria uno dei colpi gliel'ha dato forte e gli ha chiesto scusa e craig che gli ha detto non ti preoccupare li vedi questi due mi sono saltati nel film prima questi sono finti cioè semena semenano ma daniel craig si è sembrano varie cose e per esempio raccontava in un'intervista qualcuno faceva notare prima in in chat che lui nel combattimento con battista in in specie ha fatto male a lui ha fatto male a battista perché battista gli aveva quasi spaccato un ginocchio nel nella nella scena precedente e c'è un'intervista che ho visto qualche giorno fa del craig riguardo a hanno time to die in cui dice che è un ruolo fisico è un ruolo fisico nei ruoli fisici ti fai male nel senso soprattutto se c'è una certa età perché daniel craig non è proprio un ragazzino adesso vedo un attimo quanti anni c'ha perché non me lo ricordo però del 68 quindi insomma se fai due calcoli che tanto qualche annetto c'era 50 anni ragazzi nel senso e su c'ha più di 50 anni ormai james bond quindi anzi del craig quindi il discorso è che a fare la roba ti spacchi 4 non è neanche così grosso è enorme no aspetta io l'ho visto di presenza zio alla presentazione di spectre a roma che spectre è stato girato a roma hanno fatto la l'anteprima a su in via della conciliazione c'è il cavolo si chiama quella sala lì non me lo ricordo comunque la sala che c'è in via della conciliazione e io all'epoca aveva a che fare con un sito con un sito che faceva recensione di cinema eccetera ci andava alle anteprime le cose e lì gli ho fatto due domande è onestamente quando l'ho visto c'era lui c'era ovviamente anche regista e io me l'aspettavo molto più grosso cioè a vederlo dal film soprattutto adesso quella non ve la posso fare vedere ma c'è la scena in casino royal dove loro citano quando usciva dal mare ursula andres nel primissimo nel primissimo james bond dottor noce con la scena famosissima di lei che esce dal mare si tira dietro i capelli in casino royal hanno fatto la stessa cosa ma c'è lui no con degli short che fa questa cosa si con degli cioè un cazzo di petto che è una roba gigante dice questo è un armadio ma in realtà è grosso 54 anni è grosso ma non è così grosso cioè è un essere ma io l'ho visto no time to die joe io l'ho visto no time to die un uomo a 54 anni io sto facendo io non pensavo io pensavo ne avesse sulla quarantina poco poco oltre 54 anni ragazzi ma è però questi allenamenti mio padre il giovane dice veri orsai ragazzi ragazzi del friggio sono allenamenti ci sono allenamenti lo sai meglio di me c'è di tutto cioè questo per carità però loro anni di un supereroe marvel sì nonostante abbia 15 anni di più ma è da inzio non so daniel craig secondo me è stata la scelta più azzeccata che potevano fare per questa rinascita di james bond perché in realtà inizialmente si parlava di una sorta di ritorno indietro cioè di una sorta di pre quella addirittura degli sean conneri dei film con sean conneri no 007 doveva tornare proprio indietro quando era più giovane quando era più essendo più giovane più scavezzacollo diciamo così come in realtà è e anche più emotivamente emotivamente delicato perché quello che caratterizza tantissimo gli 007 daniel craig è la parte emotiva che esce molto fuori del personaggio cosa che fino allora non era uscita mai 007 non si è mai veramente innamorato ha avuto un sacco di donne ma non ha mai avuto una vera storia d'amore che invece in casino royale c'è e la lo capisco perché c'era eva green e che cazzo posso prendere un attimo in giro weby lovat che dice non mi fa pensare guarda fincher c'ha 59 anni mi sconvolge pare un quarantenne posso dire che forse nel senso per quanto fincher sia un uomo particolarmente giovanile c'ha questa barbetta eccetera eccetera secondo me comunque non come dire il problema mio con con contenere che non è tanto che sembra giovanile quanto che a 54 anni c'è il fisico dei christian swart che ha meno di 40 è un po quello il jackman pure grandi neppure è vero però il jackman è gigante il classico australiano proprio montagna il jackman quanti anni aglio jack come per esempio non lo so però pure lui ci avrà una cinquantina o se non ce liace va molto vicino oggi è andata così oggi famo quelli che cercano l'età delle persone ragazzi siamo analizzato ragazzi ma esattamente la stessa età 60 del 68 è il jackman anche lui 54 anni così come denire craig c'è vero side che dice no craig senza senso e raga è un bell'uomo c'è da da maschi cisgender sessuali è un bell'uomo cioè ha fatto molto ridere che in questo tempo dai hanno accocchiato come si può dire il foggiano le due persone con le labbra complementari daniel craig e remi male e remi male che verano le due labbra no uno c'è il labbro inferiore l'altro c'è il labbra superiore se li metti insieme fanno una persona con delle labbra giustamente dicono che il 68 sarà stata una buona annata quindi vediamo i nati e il 68 fatevi avanti allora comunque maura stavi dicendo volete tre anni non 54 quanto uno sole se c'è questa roba allucinante che è stata scritta daniel craig che poverino non sapeva un pochino che cosa fare l'ultima cosa che volevo dire sul casino royale che ha una bellissima cioè sarebbero tante cose dire sul casino royale ancora mi piace moltissimo ritornando anche scusami anche smith del 68 appunto visto il fisico e ciao will smith oggi oggi quello che trovo assurdo cioè adesso un uomo normale giustamente c'è l'età che c'è da più di 50 anni è un fisico da persona normale daniel craig non ha nessun senso il suo fisico non ha nessun senso scusatemi questa cosa mi sconvolge perché sto facendo fatica ad andare in palestra è capito in questo periodo pensa io che c'ho 40 anni pensate che c'ho 40 anni e quel fisico non ci avrò mai non l'ho mai avuto stavo dicendo solo una piccola postilla che i titoli di testa sempre casino royale erano pazzeschi per tornare discorso di due di testa che purtroppo la canzone bellissima creata da un tizio che a quanto pare ha deciso di porre fine alla sua vita che è chris cornell ma i titoli di testa però sono pazzeschi se non l'avete mai visto ci avete la possibilità di stanno su youtube ragazzi questo video che state vedendo andatevi ad ascoltare perché il pezzo musicale è veramente fico e io sono uno di quelli che proprio aspetta il pezzo musicale per questo i billy eilish ci sono rimasto una merda perché penso mi fa schifo andiamo avanti scusatemi e poi dicono bere dice che maz michelson ne ha 55 però maz michelson con tutto il rispetto ragazzi c'è dai vi faccio vedere vi faccio vedere il caro maz sempre in casino royale nell'incredibile scena della giocata a poker orale merome daniel craig che sono questi due padelle c'è mazza 59 anni e fa ancora stanto sono d'accordo ragazzi io sento che non state afferrando però il punto io sto facendo una questione puramente lo possiamo far vedere craig a petto nudo ragazze ne sto facendo solo una questione puramente di sapere dato che un po pratico lo sport sapere quanto è difficile avere un fisico così tirato e ton cruy sta un fisico molto molto allenato ma è un fisico allenato di una persona che si allena crei che un fisico da bodybuilder cioè è gonfio e gonfio essere così gonfio significa allenarsi in una maniera non solo costante ma mangiare in una certa maniera c'è proprio una roba stressante per il corpo comunque solitamente riesce a tenere fino a 40 anni circa da 40 anni in poi solitamente rallenti un po è una di massellanza esatto è una questione di massellanza comunque a me è venuta voglia di rivedere casino royal non appena stacchiamo qua me lo vado a vedere di nuovo per la centocinquantesima volta andiamo avanti mauro qual è un'altra cosa che c'hai da raccontarci che non è finita nel video che non sei riuscito a mettere nel video e io devo raccontare per forza di tutta la questione del kamikaze mauro ma per forza dobbiamo parlare qua del kamikaze eh sì ragazzi e parliamo del kamikaze nel film qual era il film allora il film è you only live twice che è il quinto film nonché l'ultimo film si vive solo due volte no non è l'ultimo è il penultimo perché dopo c'è george no perché poi ne ha fatto un altro che aspetta che ti dico qual è che me lo cerco ne ha fatto un altro però non mi ricordo qual è una cascata di diamanti nel 71 perché fra lui e quest'altro c'è stato george lazembi di mezzo ha fatto ne ha fatto in uno e l'hanno mandato a cagare e subito dopo c'è stato un altro sempre con sean connery che questo una cascata di diamanti diamon sa forever e poi entra roger moore convivi e lascia morire live and let's die c'è sempre questi sempre quindi devono morire il concetto perché lui ha l'ha rifatto dopo un tot perché ha detto vabbè dai ve ne faccio un altro ecco perché mi erano segnato che era l'ultimo ok perdonatevi comunque essenzialmente il film va fatto in giappone e questo c'eravamo già detti secondo la sceneggiatura quello che loro dovevano fare era girare in un castello un castello che doveva dare sul mare ok diamo solo e loro hanno i film di james bond di 007 girano un po intorno a queste scene a queste scelte a questo concetto ne parlavo l'altro giorno quando ero con luca perry in alcuni film in questi film uno specifico adesso un po di meno perché si usano di meno i set fisici e più la cgi però un tempo in alcuni film paradossalmente era quasi più importante il production designer del giusto però cioè designer è quello che noi in italia in italiano chiamiamo erroneamente scenografo perché non è uno scenografo lo scenografo è quello che si occupa unicamente delle scenografie il production designer è una figura un po più grande che esiste solo in america perché in italia non facciamo il tipo di film e production designer di fatto si occupa di tutto il lato visivo e costruttivo del film quindi se ci sono da fare delle scene in delle location particolari e lui che capisce se si va in location se si costruisce invece in teatro di posa come si costruisce in teatro di posa eccetera 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 una figura un po più grande il production designer è quello che è a capo del dipartimento artistico del film praticamente e non c'è nessuno nella stream che fa il production designer perché ripeto non è una figura che viene preso è una figura che esiste solamente nei grossi film d'azione hollywoodiani che hanno bisogno di set giganteschi cioè noi utilizziamo ovviamente cioè facciamo esatto della controparte italiana che sono gli scenografi ma solo a progetto quando abbiamo necessità di uno scenografo i nostri set quelli interni alla slim dogs gli scenografi siamo noi principalmente matteo bruno che ovviamente lavorando con la fotografia da un'idea di quello che deve essere il set viene creato da noi così poi per i cortometraggi videoclip eccetera tutte queste robe invece gli scenografi quindi insomma il discorso è che non c'è 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 il castello perché non perdonami giù non davvero capito che c'è deve essere è scusa colpa mia quindi insomma il discorso è che con production designer il capo come si chiama aspetta cab i broccoli il il capo allora della famiglia broccoli il produttore dei film solitamente si metteva sempre d'accordo con production designer ovvero lo scenografo per trovare il nuovo luogo no james bond è il film in cui si viaggia in giro per il mondo posti esotici il gadget questo è tra l'altro è una roba che se notare ha estremamente influenzato la filmografia di nolan nolan a varie volte provato a fare il suo film di james bond perché di fatto è un film come dire un genere che gli piace cresciuto poi ha fatto tenet si è esatto e net è il suo james bond nello specifico però un'altra cosa molto particolare è che per esempio lui sa spesso i ghiacciai e i ghiacciai e la neve è qualcosa di molto utilizzato in generale infatti l'atto finale di inception si è tutto il ghiaccio è fatto proprio di acciaio comunque quello che stavo dicendo è che quindi si fanno questo location scouting in giappone in cui devono per forza riuscire a trovare questo castello sul mare il problema è che in giappone castelli sul mare non ce ne sono per la maniera in cui semplicemente la si è sviluppata lì la cultura non ci sono non ci sono castelli sul mare e disperati da questa cosa e dobbiamo riuscire per forza a trovare uno ci dobbiamo fare tutto il giro del giappone in elicottero e quindi si presentano gli viene presentato questo questo pilota di 9 ok questo questo è il pilota che vi accompagnerà col suo elicottero a fare il giro per tutto il giappone e loro notano che questo questo pilota alle mani un po un po che gli tre ma non c'è un po di tremori alle mani mi pensa decollando è ovviamente un pilota giapponese e e quindi insomma subito subito prima di decollare il cagano un po sotto diciamo esatto e subito per decollare questo pilota si gira e fa mi in un inglese abbastanza maccheronico fa mi kamikaze pilot e quindi quello è stato un momento in cui loro tutti quanti un po cagati addosso ora tra l'altro leggevo nei commenti enti realtà nei commenti del sotto al video che in realtà il termine kamikaze è erroneamente interpretato della maniera in cui l'interpretiamo noi e letteralmente in giapponese significa tipo pilota dei venti è una roba del genere qualcosa legato al vento quindi realtà è semplicemente un nome che noi abbiamo associato a quel tipo diciamo che la storia ci ha detto che kamikaze sono certo grazie caro quelle grazie mille beh ci sta effettivamente vento di vino con quelli che se non era quello era semplicemente un come dire un nome che loro attribuivano ai piloti aerei che poi durante la guerra mondiale delle volte facevano quello che hanno fatto però era per insomma loro si sono un po che cade in mano però poi di fatto appena questo volava le sue mani erano fermissime lui era il pilota migliore tanto che è addirittura riuscito ad atterrare con l'elicottero distrutto in seguito all'incidente che c'era stato quindi paradossalmente questa cosa è stata è stata l'hanno avuto fortuna faride comunque il problema è che alla fine non non trovano nessun nessun castello in cui in cui girare e però nel girare a destra sinistra su e giù c'erano c'è un botto dei vulcani famo che giriamo al vulcano e quindi devono costruire questo gigantesco vulcano interno ora io la storia delle ragazze giapponesi ve l'ho già ve l'ho già raccontata quindi non ve la riracconto tornate in caso andate sul canale slim dogs c'è il video uscito settimana scorsa allora la cosa che mi fa molto ridere e le dimensioni era enorme vediamo se c'è un bello dovrei trovare qualche immagine tra l'altro non solo era enorme era in scala 11 metri 35 metri e praticamente da solo questo set costava è costato più dell'intero budget di dottor no è il primissimo è il premio di james bond se c'è solo la costruzione di questo di questo set è costato più dell'intero film e qui dovete darvi una scala e per farvi capire quanto era c'è un ride ride di dario stelluti con sei utenti avete appena visto un mauro che saltella nell'animazione che ha fatto valentina dove c'è mauro che fa lo stuntman e sì perché quando ci sono i ride ci sei esci fuori tu che saltelli mauro invece deciso tu perché esco io quando qualcuno si iscrive abbonamenti ecc che adesso ricordiamo un pochino e quindi lo stavo dicendo il castello il vulcano quanto era grosso eccetera eccetera vabbè faccio vedere un'immagine è a 1 a 1 cioè non è non è una miniatura cioè stanno è quella la grandezza del 7 ed è una roba enorme tra l'altro questa è una cosa che qualcuno ha dato nei commenti e sono molto contento però ve lo voglio come dire ve lo voglio riaccontare personalmente la cosa assurda di questo set è che era talmente grosso che durante le pause pranzo chiunque lavorava negli studios invece di farsi chiazzi proprio chiacchierare andava a guardare la costruzione del set tanto era gigantesco e era così gigantesco che anche perché non c'erano abituati all'epoca a sette così grossi ma sì ma era gigantesco una roba infinita e l'altra cosa è che per illuminarlo sono state utilizzate tutte e dico tutte le lampade presenti negli studios non c'era nient'altro che veniva girato in quel momento perché erano tutte quante occupate per girare questa cosa l'altra cosa che mi fa molto ridere è che per la scena dei ninja hanno utilizzato effettivamente gli stuntman giapponesi che quando sono arrivati il concetto che gli giapponesi sono persone molto orgogliose e quindi sono detto stante meno americani non li mettete l'imbarazzo nel senso fategli come dire date l'impressione di essere più bravi di voi non non fa gli sboroni con loro perché loro sono molto orgogliosi quindi devono pensare di essere più bravi se non fosse che poi quando c'era da calarsi con le fumi no no soffrivano tutti quanti di vertigini non gli piacevano le altezze quindi in realtà calarsi dalle fuori sono solo gli stuntman americani anche quelli giapponesi hanno detto chi vede schioppa nella sopra ci saliamo intanto molto ridere piccola cosa volevo farvi vedere dove nasce il cliché del cattivone col gatto il cliché del cattivone col gatto nasce proprio in questo film ed ecco qui il cattivo prima volta che si vede bloffeld esatto in oli live you only live twice live 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 twice ok è in inglese quello che è perché è dal vivo dal vivo live vivere 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 questo non si scrive uguale ma si pronuncia diverso è nato qua col col cattivone con l'occhio sguercio è il gattino è il gattino eccolo qua lui è il cattivone e qui c'è il gattino tra l'altro questa è stata una situazione analoga a quella della giapponese che quasi si è ammazzata perché anche in questo caso praticamente loro avevano questo set è girato in america ma loro avevano girato fino a subito prima su location in giappone quindi regista arriva e non aveva visto la attore che interpretava bloffeld lo vede ed è lui lo definisce questo vecchietto un po alla babbo natale c'era un vecchietto una barba una barbetta bianca e dice che non va bene non va bene nel senso che non è abbastanza cattivo non è abbastanza brutto non è abbastanza non mette abbastanza paura e quindi loro fanno una settimana di prese con questo attore che poi viene licenziato e viene preso l'attore che poi interpreterà bloffeld perché gli fanno tutto pelato con l'occhio tutto storto eccetera eccetera è fatto voglio però era voglio far vedere a tutti la miglior parodia di quello che è il mondo di 007 che ragazzi vi sto facendo vedere un pezzo dove si vede mike myers che interpreta il dottor male perché se non l'avete mai visto austin powers fatevi del bene fatevi due risate è andata a vedere austin power cioè cercate di avere austin powers questi sono quei film che avendoli visti da sono per me e io sono un grandissimo fan della lingua originale però questi film nella mia testa vivono con il doppiaggio sì c'è vero mi fa zippa la bocca zippa la bocca zippa la bocca mi fa troppo ridere mi fa troppo ridere è incredibile ed è quella roba per me in italiano cioè non riesco a sentirla ma troppo austin powers mi fa troppo ridere con tutti i suoi che fra l'altro l'intro e poi chiudiamo questa piccola parentesi sulla roba ridicola di 007 e l'intro del terzo austin powers di goal member è una roba pazzesca dove c'è tom cruise guinnett paltrow steven spilberg c'è steven spilberg e poi ci sono come giustamente why bielovat 7 dice sono felicity la da ci sono tutti questi nomi assurdi in italiano che chissà in inglese io non l'ho mai visto in inglese chissà in inglese come sono non so come la felicity la da in inglese un google che lui vedeva il neo che una roba che nel senso no no vabbè comunque andiamo avanti no per me invece però la migliore parodia mi dispiace questo qualcuno l'ha notato in chat io sono molto molto contento il motivo per cui tutti quanti anche se non avete visto you only live twice conoscete questa scena è perché tutti quanti voi avete continuamente visto su italia 1 e simpson e se avete tutti quanti visto continuamente su italia 1 e simpson ricorderete bene l'episodio che in italiano si chiama si trasloca solo due volte you only move twice che l'episodio in cui a omer viene offerto il lavoro in un'altra centrale elettrica e va a vivere in quest'altro posto dove lavora sulla sulla centrale elettrica nella centrale elettrica e incontra il capo della centrale elettrica che il che mister scorpio è evidentemente il cattivo di iniziare bond e ci sono hank scorpio ragazzi ci sono una serie di battute in quell'episodio dei simpson che io vi giuro non posso pensarci senza ridere c'è hank scorpio è il miglior personaggio dei simpson sono pronto a combattere è lui non la mia vita per questa per questa cosa madonna che vivere il scorpio c'è questa scena qui in cui lui gli dà la questione della giacca di prego accendi la prendi la mia giacca fa non so dove prenderla è perché qui noi alla globe ex corporation non che non crediamo nei muri in realtà non ti ho neanche dato la mia giacca di nuovo con la giacca addosso al contrario ci sono tutta una serie di cose senza senza tutto il pezzo sul sulle amache il distretto delle amache amica una marca c'è tutta una seti lo maschi di non maschi esattamente con l'altro per rito da gare usi andesiga salutiamo christian de siga si è doppia no 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 è la scritto il maschio prima di non maschi e l'ha scritto cristian de siga cioè a cristiani che stiamo capendo grazie christian che ci segui amiche amaca amico una marca le macchie di marica scusate io potrei andare all'infinito su questa penso andiamo avanti su 007 ragazzi prego guardatevi quelle di simpson vi prego c'è ma fanno questo questo extra per christian e glielo fanno fare a lui non è finire felici di chaguel vedi chaguel ok sarebbe felici della dà sì dai andiamo avanti quindi parliamo di 007 c'hai qualche altra cosa io c'è una piccola menzione sulle bond girl ce n'è fra c'è stata anche un periodo mi ricordo quando si parlava del della di brosnan no del quale era aspetta che me lo ricordo era quello con sophie marsò che è il mondo non basta the world is not enough che questo l'ho detto giusto dove c'è dove c'è la il testo il testo del pezzo iniziale della della sigla iniziale ed è garbage ecco il pezzo bellissimo ma andiamo avanti si parlava tanto di bone girl la cucinotta quando la cucinotta in realtà se la giocano in tre microsecondi sì perché un'altra parte molto importante dei degli 007 è sempre stata diciamo la scelta delle bone girl si è sempre parlato di chi è il prossimo bond chi è il prossimo bond ogni volta che poi per esempio daniel craig l'ha fatto per quattro volte adesso è stato è abbastanza ufficiale che non sarà più lui il prossimo 007 e c'è il toto 007 io tipo per tomardi che se non sbaglio inglese tomardi se non ricordo male io tifo tantissimo per tomardi solo che rischiamo un altro daniel craig con tomardi in realtà quindi non so se loro vogliono completamente cambia dipende se vogliono cambiare completamente registro magari prenderanno un po più avanti soprattutto l'età o penso per giovane secondo me prenderanno comunque qualcuno di non conosciuto perché tomardi conosciuto dei neppresi quando venne per il previso era praticamente uno sconosciuto si aveva fatto the snatch no ha fatto una serie di altre cose ha fatto non si era fatto prima o dopo munich no munich l'ha fatto dopo dopo adesso lo cerca adesso lo c'è una mazza che bomba attinson è se vogliono se vogliono ragazzi se vogliono prenderanno un attore che non che nessuno conosce vogliono 006 del settore appassione di cinema conosciamo ma un attore non conosciuto al grande pubblico perché bisogna vedere se a departe di push l'aveva fatto prima quello dove era un po più conosciuto nel 2004 poi munich dove munich si aveva fatto prima nel 2005 poi casino royale arriva nel 2006 e poi fa una serie di porcate di vola bussola d'oro cowboy alieni idea geniale film di merda idea geniale se l'idea era bellissima il film una merda vabbè di john favreau fra l'altro vabbè pesato e c'è comunque dicevamo un altro bond parliamo di un altro bond io ho voluto lanciare questa cosa sulle 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 donne sulle sulle buon girl che è sempre stato appunto uno di quei e chi sarà la prossima buon girl una delle mie preferite delle ultime a parte eva green che una meraviglia fuori di testa a me nuovo di stare weby lovat che per ti prego quando dici queste cose fatte sono ancora considerato un attore di serie b infatti la sua pagina batman e ridicola andiamo avanti robert pattinson è uno degli attori più andiamo avanti del momento massimo poldano ecco il poldano che fa l'enegnista è un attore che vedi esatto poldano è uno di quegli attori fa anche fa il ragazzino creepy in coso in the prisoners quello con la faccetta creepy un po ovunque poldano ecco lui è un attore comunque per chi io stavo parlando di el berry e tonietti in mezzo ma prego finisce scusatemi ragazzi però poldano è molto carinello quindi no ragazzi sicuramente come dice mauro difficilmente saranno attori conosciuti michael sera ammazza michael sera che fa james bondy vorrebbe molto più ridere dice weby lovat continua a dire che 3 milioni la sua paga di batman ed è così proprio perché non è ancora ritenuto così eccezionale questo è certo non può niente contro i 75 fottutissimi milioni dati a robert downy junior per quella porcata di endgame ma quello un altro discorso andiamo avanti quindi volevi parlare skyfall bellissimo skyfall fra l'altro il primo di mi pare che il primo di american beauty san mendes mi pare che il primo di usa mi stavo leggendo una cosa è il primo di san mendes skyfall se non sbaglio andiamo a vedere andiamo a vedere sì sì mi pare che il primo esatto bellissimo anche quello sia skyfall che quello dopo spectre la scena iniziale i sam and that tirato fuori se mendes all'inizio di spectre pazzesca pure spectre non è meraviglioso la scena iniziale è incredibile c'è quel piano sequenza nel come si chiama il giorno dei morti in messico la l'ade dello serano vertos un cazzo però con le spectre e spectre si quindi parliamo di skyfall parliamo di skyfall allora parliamo di skyfall io prima volevo dire scusatemi l'ultima cosa sul casino real perdonatemi la certo il pezzo in cui in cui manca 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 di pochissimo eva green che sta lì sul pavimento e lui con la stone martin file sì 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 all'improvviso quello l'hanno fatto veramente l'hanno fatto veramente non solo l'hanno fatto veramente ci sono queste due cose la prima è che il problema è che la stone martin è una macchina da corsa era tommyade sono smirata scorre e non si riesce se una macchina da corsa e piatta aerodinamica fatta per non la sesto e fa non è non è non è una smart che appena fai una curva un po più dura si cappotta tipo tipo dato da gioco è una macchina che rimane ferma e quindi le prime volte hanno avuto parecchi problemi a farla ribaltare dicono che è una gran turismo non esattamente una macchina da corsa ragazzi non mi dovete checare il cazzo però avete capito cosa intendo si è capito dai dai su avete capito cosa intendo è una macchina che corre veloce e quindi non è fatta per ribaltarsi ha un assetto fatto apposta non capisco niente di macchina sta saltellando guarda guarda madonna mia come saltata è una cosa che non succede c'è questa è una roba che non può succedere a una son martin perché non per quanto tu veloce stia andando e quanto velocemente tu voglia fare questa curva è una macchina che non la fa questa cosa quindi hanno messo il solito pistone il gigante enorme cannone ad aria sotto con un pistone che quindi la spara e la far rovesciare e vediamo sono totalmente bene che hanno che praticamente hanno stabilito il record per il maggior numero di flip che si fra l'altro fra l'altro la stone martin ha dovuto pure dichiarare una questione di assetto della macchina eccetera eccetera perché volevano sottolineare il fatto che non succede cioè che non può succedere quello che aveva detto mauro prima che non esiste che con quella macchina succede una cosa del genere a parte però alla fine l'ha fatta talmente bene che hanno fatto il record per maggior numero di flip fatti faccio vedere c'è la scena del backstage maurove c'è una roba ragazzi adesso che la vedete c'è la scena del backstage dove volevo fargli notare c'era lo stuntman dentro ragazzi come posso dirvi che questa è la prima volta che abbiamo appena visto che non è successo scusatemi vi volevo fare vedere come il ritardo ovviamente per farle se avete visto nella scena originale la macchina letteralmente salta da una parte poi comincia a zompettare che hanno dovuto mettere ovviamente una rampa vedete lì ve lo faccio vedere con la rampa qui c'è una rampa per farla saltare ma non non rimbalzava la macchina cioè comunque non saltellava non flippava la macchina se ricevano a fare solo tre flip si accontentavano assolutamente però al punto in cui fanno vedere quanti adesso 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 sto cercando all'interno perché voglio far vedere intanto l'interno della macchina com'era combinata proprio per montare giusto diventato molto stone giga molto bex io io 007 li conosco tutti benissimo proprio bene quando una cosa la conosco benissimo mi piace è un po come detto e te li studi no io questo non lo conosco bene ma io come gli studi perché adesso ormai questo è il mio lavoro certo sono come te nel senso io le cose che sta esatto come i primi noi primi che tu il signore degli anelli lo sai a memoria perché l'hai visto 300 mila volte ti sei visto tutti i making of io di molti non lo faccio verne dice una smart se ci sta l'olio sull'asfalto secondo me 10 flip ci arriva senza sicuramente ma anche senza ecco eccolo 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 chiorenza smart ogni volta che facciamo una curva più di 30 all'ora rischiamo la morte quindi eccola qua eccola qua c'è la scena dove ragazzi ovviamente il corpo che vedete sulla strada che adesso vi faccio vedere che vede sulla strada non è ovviamente la green è un neanche una persona è un pupazzo messo lì che ok no questo tendo a specificare perché prima abbiamo visto la scena dove si vede proprio va green in mezzo alla strada mo se entra vede in corpo o lo specificare il fatto che ovviamente non è va green è un certo punto c'è un esplosione una sorta di si può chiamare esplosione no comunque c'è del fumo perché è una esplosione perché è questa è questo martello pneumatico esatto viene sparato a terra e quindi c'è il fumo si vede il fumo è la macchina comincia a roteare letteralmente lì dentro c'è uno stuntman certo quanti flip fa è ma perché comunque comunque lo riporto indietro c'è stava piottando la macchia cioè non è che arriva a vendere allora arriva il che c'è mente venendo da prima che non ci sono riusciti hanno detto vabbè dai diamo il più velocemente possibile andava 200 uno stronzo quindi a cioè arrotolato bene che sembra sembra una macchina sembra un hot wheel una macchina finita voglio vedere se questa è la clip che conoscevo dove ovviamente poi si vede anche come è caricata la macchina dentro no non si vede però vi voglio far vedere perché è molto bello anche che parliamo sempre degli stunt eccetera che fanno le cose pericolose no l'idea è tante tipo cede esattamente si dice scusa no 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 figurati è che succede non appena finisce la scena si dà lo stop allo stuntman che ha appena roteato dentro quella macchina immediatamente c'è qualcuno che corre verso la macchina a controllare che sia tutto a posto lo stunt tira fuori il braccio a dire che tutto ok il tizio conferma che tutto ok e per il set è una festa che ovvio c'è una festa tutti contenti che controllano che fa riderissimo di questa cosa è il fuoco nel senso che un solitamente a seconda del tipo di gel un attore può rimanere in fiamme uno stuntman può rimanere in fiamme per un numero specifico di secondi solitamente sono 15 la quantità di secondi in cui uno stuntman può rimanere dato alle fiamme e se voi assistete a una delle a una scena del genere paradossalmente non sentite una persona che urla perché è data le fiamme ma l'unica se sentite lo stunt coordinator con il megafono che fa che con uno due tre quattro e loro che continuano ad agitarsi perché sanno quanto tempo gli manca arrivati intorno a 10 adesso buttatevi a terra si buttano a terra con le braccia da divaricate gambe divaricate e arriva qualcuno con un estintore che lì e non è proprio un estintore non mi ricordo come si chiama perché non è proprio una cosa simile comunque cosa specifica sembra un estintore ma non è proprio quello che c'è all'interno di un estintore perché sparato in faccia un essere umano poi addosso un essere ma può essere tossico un'altra roba giustamente nascione dice il tizio di a fuori braccio dello stuntman e dice è rimasto solo questo allora io su skyfall c'è una serie di cose molto belle ciò l'inseguimento iniziale in turchia con il treno e tutto il treno il la tenuta e la distruzione del come dire lo schianto dell'elicottero nella tenta quindi direi di di partire sicuramente dall'inseguimento in turchia va bene vai quell'inseguimento sui tetti non so se vi ricordate c'è lui con una moto da cross faccio vedere sui tetti della turchia questo fatto davvero è certo quella è una vera moto da cross e quelli sono davvero i tetti in turchia e lo spazio era talmente stretto che ogni volta che bisognava ruotare a girare la macchina se voi ci fate caso non c'è mai un momento in cui la moto fa una curva la moto in questa scena va sempre dritta sui tetti si immaginano questi tetti turchi che sono sempre dritti e non hanno mai una curva se non delle curve molto dolci perché se ci pensate sarebbe stato impossibile fare fare le curve a 90 gradi una curva dell perché non c'è fisicamente lo spazio per farlo infatti a ogni angolo ogni volta c'è da fare una curva c'è un gruppo di persone addette che facevano scendere lo stuntman e fisicamente spostavano la giravano la la moto per fargli fare la curva farla tornare indietro per farla una follia certamente i caro e dice what perché è assurdo pensare che quello che state vedendo è stato fatto davvero ragazzi 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 che va a cannone su una moto da cross sui tetti ripeti è una regola di james bond è l'unico che la l'unica regola che è stata un po mandata a quel paese durante per i film di brosnan è stato proprio il facciamo qualcosa in cgi ma ne james bond si fa tutto dal vero al massimo quello che possono fare in scene tipo vi faccio vedere un attimo c'è un primo piano di di daniel craig sulla moto che sta piottando come una stronza quello è un face replacement però quella non è la faccia di daniel craig perché la faccia di daniel craig è appiccicata sopra comunque un tipo che quella roba l'ha fatta c'è nei primi piani non è daniel craig ma quello è veramente un tipo che sta piottando con un bastardo sul tetto cioè è questa la cosa fichissima dei film di bond che comunque è reale dei ce ne sono rimasti pochi uno dei motivi per cui tanti registi non hanno mai troppo storto il naso con i mission impossible james bond e se la prendono molto con i film della marvel e che queste grosse saghe che partono quasi tutte quante prima della venta della cgi mission impossible ma prima della venta da cgi sono state impostate tutte quante sul concetto del grosso stunt ok ognuno di questi film a non mi ricordo che lo facevano natale prima in chat la scena da un milione no il concetto di questa scena da sola deve costare un milione che sono quelle che portano avanti il film e diciamo che questa è la scena figa e e diciamo che invece il problema di fin della marvel è che quelle scene non ce le hanno sono utenti ghi ai e quindi magari io posso ammiglio come si riai si va comunque migliori in cgi però e c'è meno film making c'è nel senso per quanto un regista come dire un regista come christopher nolan inevitabilmente a a cuore questo tipo di film perché nonostante magari sono un film commerciali tra virgolette spero destinati a essere venduti al pubblico per fare tanti tanti soldi nel creare quella scena c'è un atto di film making particolarmente coraggioso e quindi a prescindere da tutto girare con la scena è comunque una cosa una follia è un po un po questo il motivo per cui scusa per cui mi toccavo tanto i capelli perché orazio perché non è giovanni tocca i capelli se non hai visto space jam stavo cercando di far capire non me ne può fregare di meno in tutti i modi possibili immaginabili c'è una cosa un po quello il motivo del cui scorsese e coso anche e villner se la prendono tanto e che comunque in questi film in una maniera o nell'altra c'è sempre questa la presenza umana componente di questa roba la facciamo però adesso prendiamo un tizio su una moto e cerchiamo di trasmettere questa adrenalina allo spettatore poi ragazzi questo vi vorrei dire io conosco degli stuntman fra l'altro quelli che conosciamo diciamo con cui abbiamo avuto un po più confidenza sono gli scilla bros ma io per i lavori che ho avuto molto pre slim dogs su alcuni set conosco la famiglia borgese che sono sono padre e i due figli sono tutti e tre stuntman è borgese o borghese non mi ricordo comunque questi da una famiglia di stuntman loro vogliono fare queste cose assurde stanno in fissa quando gli dicono guarda che adesso ti mettiamo su un treno che sta correndo e tu la te devi menacco qualcuno quelli stanno in fissa da morire perché vivono delle situazioni che in altro modo non potrebbero mai vivere e se vogliono fare quel mestiere e perché vogliono fare queste robe vi faccio vedere un pezzettino mi ricordavo che si vedeva in un contenuto speciale di skyfall dove c'è si vede l'operatore che sta riprendendo c'è la scena dove a un certo punto loro due si menano e poi james bond cade no che poi iniziano l'opening il titolo di testa no di lui che cade diciamo dal ponte perché c'è monipenni che spara e becca lui invece che il cattivo di turno e c'è una clip dove si vede c'è la macchina da presa messa dietro all'operatore con la macchina presa del film che aspetta che arrivi il treno dove ci stanno sti due e si stanno a menà ed è pazzesca questa cosa cioè vedete lui stava lì questo è se mendes vista lì che aspettava proprio che passavano i due che si menavano ti lascia il treno io ve lo voglio spiegare l'inseguimento sul treno è reale nel senso loro sono davvero sul treno hanno dei cavi di sicurezza che gli permette di non cadere di non morire però sono effettivamente sul treno e e a seconda delle dei dei casi ci sono delle parti vere delle parti finte nel senso che la per esempio qui c'ho scritto che il retro cioè questo a un certo punto nel all'inizio di questa scena anzi a un certo punto di questa scena venire craig con uno scavatore sfonda il retro del salire sul treno del treno per salirci sopra e in quel caso per esempio il retro del treno che cade e si stacca e fatta che lo certo però il l'inquadratore in cui l'escavatore sfonda il tetto del treno quelle sono fatte davvero c'è davvero un escavatore sul treno che stava sfondando e mangiando via il treno semplicemente la parte in cui fisicamente sgancia l'ultimo pezzo e lo butta giù per una questione di sicurezza quella parte è fatta in cgi eccola qua ci sono eccola la faccio vedere che lui una volta salito sul treno prende c'è questa questa parte del treno dove ci stanno delle macchine eccetera sale su questo scavatore e cerca di avanzare no scene folli ragazze sono fatte veramente ste cose io non so c'è e questo è uno dei motivi per cui amo james bond perché quando vedo questa roba dico porca c'è uno su quella sopra su un treno che sta piottando prima qualcuno diceva perché fuori roma che vuol dire piottare correre tantissimo che sta correndo tantissimo il treno non si ferma qui sfonda il tettuccio esatto sono un po in delay cioè capito non è che c'è il treno fermo e poi c'è lo sfondo che si muove come farebbe qualcun altro ma c'è il treno sta correndo e là sopra c'è della gente che fa delle cose non lo so io per me fuori di testa sta roba è stupenda è emozionante hai quella quella cosa che in molti film d'azione ormai si è persa che quel pericolo morte cioè quella paura che potrebbe succedere qualcosa di sbagliato che potrebbero farsi male che c'è quella quella concezione del pericolo che in tutta una serie di altri film d'azione non hai perché tanto è tutto finto qui si percepisce che è vero oltre che vabbè si sa che è vero però si percepisce che è vero e quindi anche se james bond ovviamente all'inizio del film non può schiattare però hai comunque quella sensazione di tensione perché questi se stanno ammenasso un treno se vai alla parte invece in cui lui viene sparato e cade vi stiamo fatto con la parte eccola qua si vede il mirino di monipenni e questo è l'inquadratore dell'operatore che avevamo visto prima m che dice colpi spara anche se non ha il tiro monipenni spara e becca daniel craig bellissima questa scena prende daniel craig che precipita giù e poi partono appena arriva in acqua il treno tira dritto e parto in dito vuoi ripetere un attimo l'inquadratore in cui cade giù dal treno è vera zio c'era uno che cascava veramente e si vede che è vera proprio la non quella in cui cade proprio quella in cui cade dal bordo del sì 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 questa è scusa mia sono un po e scusa anche adesso la vedi questa 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 qui appena ci arrivi sono col fotogramma ferma appena ci arrivi la vedi me lo dici mi confermi ma credo sia questa è questa la play vado in play si vede che casca qualcuno è già è un tipo qualcuno che non lanciato giù come hanno fatto praticamente c'era un crane una group con un cavo discensore che praticamente in in terminologia stunt è un un capo che permette allo stuntman di cadere da una determinata altezza ma contrapponendo una una forza che gli permette di rallentare e quindi invece di essere una caduta libera semplicemente il il cavo piano piano rallenta in modo che non non muoia essenzialmente e quindi quello era uno stuntman che si è lanciato effettivamente dopo di che hanno hanno fatto una un inquadratura di craig uguale identica cercando di matchare la stessa come dire la stessa lo stesso tipo di inquadratura la stessa prospettiva allo stesso movimento per poi sostituirgli solamente la la testa ovviamente e infine in realtà tutta quella roba però era era ferma hanno dovuto creare il bordo del del ponte hanno dovuto creare tutta una serie di cose che si muovivano perché quella roba è stata girata sul treno fermo il treno non si stava muovendo non la devi ammazzare la gente di base la gente è lasciato cadere e basta però era era vero c'è una domanda che fanno da un po al quale volevo rispondere con la diapositiva la domanda era ma come cazzo hanno fatto ana de armas questa è la madre di ana de armas potremmo provare a chiederlo a lei come cazzo ha fatto a far quella figlia ma andiamo avanti quindi ma il padre i denti con lei detto questo rigna tomica e detto questo dice come il padre di guani in chat c'è una domanda interessante che adesso di ti riporto di guani in chat che per esempio a james bond appartiene l'esplosione più grossa mai fatta che quella in spectre una delle esplosioni più grosse mai ricreate nel nel cinema c'è sarzen becker che ti chiede mamma volo di proprio una domanda che avevo fatto sul disco non la ricordo come questi scusate ok che rapporto c'è tra il regista il regista di seconda unità ad esempio le scene d'azione gli ultimi 007 sono diretti da alexander wit ma si parla di queste scene come se le avesse dirette solo fukunaga quindi come viene la scelta di come dirigere queste scene in generale c'è un discorso molto in generale che esce fuori dal mondo 007 però una cosa importante perché perché la regia di seconda unità è comunque soprattutto in film come questo un diciamo un reparto molto importante perché si occupano molte volte di tutta una serie di scene che amiamo tremendamente che veniamo nei film che comunque non vengono a volte attribuite a regista direttamente come in questo caso io ho la risposta però mauro da regista vorrei tanto che l'adesi voglio la risposta vi voglio far notare faccio un esempio se prendere sulla pagina wikipedia di alexander wit a parte che è un frequente collaboratore di scott praticamente ha fatto da seconda unità tutti i suoi film ha fatto casino royale ha fatto vedo un attimo fatto fatto skyfall ha fatto spectre ha fatto avengers infinity war ha fatto vedo hercules ha fatto prince of persia ha fatto ha fatto xxx dar david italian job animal annibal il radiatore ha fatto speed anche se del suo primo film da regista di seconda unità qual è la questione è che un film delle dimensioni di un film americano e come dire arrivati a un certo punto il regista diventa ok cerco di spiegare però così nessuno si aspetta che il regista faccia le scenografie non è da fare il compito del regista non è quello fisicamente di fare le scenografie e dire lo scenografo come vuole che le scenografie vengano fatte e poi le fa nessuno si aspetta che il regista si metta a cucire i costumi il regista non cuce costumi dice al costumista come vuole costumi e il costumista che è esperto in quel campo realizza i costumi essendo le scene d'azione molto specifiche perché girare una scena d'azione e ve lo dico perché è una cosa che mi piace fare e in cui cerco di specializzarmi più possibile è una cosa ci tengo a specificare scusa mauro che le quelle che sono le scene d'azione nei cortometraggi che facciamo i slim dogs e anche quelli che fa mauro durante le scene d'azione mauro stesso a prendere la macchina in mano e a girare la scena questa è una cosa che è esatto l'operatore le macchine della macchina presa durante quelle scene io sai che sono dell'idea dai a cesare quel che dice sarei così tipo il corto che abbiamo girato quello la heavy time tutte le parti dove loro si menano l'operatore è stato mauro oltre che regista del corto prego scusa se ti interrotto ma è importante per me questa per me dirle queste cose importanti no perché molte volte è giusto dai a cesare quel che dice cesare cioè questa cosa e ci tengo a precisare anche che le premonta lui quelle scene perché poi il giro in una maniera talmente specifica che le premonti due le premonti due mesi esatto però insomma il discorso che gira una scena d'azione è un'abilità un po a parte non è come girare una scena normale perché ci sono tutta una serie di conoscenza che deve avere che non è detto che tu abbia poi magari ce le hai nel senso che sono quei registi che ce le hanno però neanche spilberg gira necessariamente tutte le proprie scena nazione e spilberg è un cazzo di campione però non gira lui ripeto sono due motivi il primo motivo è perché non tutti sono in grado per esempio basti pensare a mark webb e regista dei dei film di come cazzo si chiama di di spider man con andrew garfield e in quei casi quel caso l'unica altra cosa che mark webb ha fatto prima degli spider man era stato 500 giorni insieme che una commedia romantica quindi capite bene che passare da una commedia romantica basso budget a due film di supereroe d'alto budget no non è un non è una cosa facile da fare e alla stessa maniera pensate al contrario c'è michael bay che invece riesce a girare benissimo l'azione di merda tutto il resto perché invece lui perché lui ha comunque una seconda unità però fa dell'altro perché c'era una domanda che dice ma quindi il regista di seconda unità fa solo esce azione no la seconda nata non può fare per vari motivi che molte volte anche un motivo di tempo esatto il regista di unità fa due cose fa scene aggiuntive non con attori principali che magari non c'è il tempo di fare quindi magari per esempio e abbiamo visto il film di vincenzo vincenzo al fieri tra l'altro sia stasera domani sera e di nuovo al cinema ai confini del mare con eduardo no solo stasera purtroppo era oggi era l'ultimo giorno oggi è l'ultimo giorno quando capiterà però per esempio in quel film mi ricordo c'è una scena uno specifico in cui c'era l'attore andava girata in una giornata in cui c'era questo attore ma vincenzo era impegnato a girare un'altra scena e tanto era semplicemente un fegatello di questo attore che veniva buttato da una parte e quindi semplicemente lui ha chiesto ad altri registi che gli hanno fatto la seconda unità di ok mi giri questa scena perché non ho il tempo di farla e la possiamo fare solo oggi che c'è questo attore oppure la cosa che solitamente di non registi seconda unità sono gli establishing ciò si vana si vai e fai due ore dei palazzi di roma di establishing shot che fanno vedere questo è roma oppure le scena d'azione c'è da dire che ovviamente e poi mi sto zitto c'è da dire che ovviamente quando i registi secondo unità fanno delle cose come nel caso di vincenzo al posto del regista c'è prima tutta una riunione non è che semplicemente vai lì e gira questa cosa c'è un il film è così questo è il mondo questa è la cosa stiamo facendo queste inquadrature stiamo lavorando in questo modo voglio vedere questo voglio vedere quest'altro io non lo posso girare giralo te ma è come se lo stessi girando io cioè non è che tu a un certo punto ti puoi inventare quello che cazzo ti pare dico anche perché io sono stato come responsabile di produzione una seconda unità in un film girato in sardegna e quello che era il regista di seconda unità era in quel caso dove c'erano solo c'era una ci abbiamo fatto una scena d'azione e altre 3 4 scene dove una erano semplicemente i totali di un posto no quelli dicevi te i fegatelli establishing shot un altro era un attore che arrivava da parte prendeva una cosa diceva due cazzate se andava lì il regista ha semplicemente fatto quello che il regista gli ha detto di fare si è inventato niente ma allora finendo il discorso il regista di seconda unità in film del genere serve per due motivi come vi ho fatto notare e lo stesso registro di no time to die e lo stesso di casino royale che è lo stesso di sky folk lo stesso di spectre e questi firmano tutti i registi diversi ma hanno tutti lo stesso registro di seconda unità il che vuol dire che la trama magari viene gestita in maniera diversa lo stile viene registro e viene viene gestito in maniera diversa ma l'azione che poi la parte importante james bond è sempre uguale perché sempre lo stesso regista poi è ovvio che come dicevamo prima il costumista ai costumi li fa sotto indicazione il regista fa da solo perché faccio il regista non sappia fare il costume non significa che non sappia dirigere il costume stesso discorso vale per la regia di seconda unità le scene d'azione il regista dà un'indicazione le scene d'azione di questi film sono sempre ampiamente story bordate ampiamente pre visualizzate quindi si va sul set già con un elenco preciso delle cose da fare il regista le approva e poi lì dipende tra virgolette dalla potenza del regista rispetto al progetto perché vi assicuro che ogni regista potrebbe fare di maschi di una peggiai qualunque cosa esatto è solo che alcuni non fanno in tempo altri non possono nel senso io mi immagino che per quanto cari fu una casa un grandissimo regista non ha il diritto di scegliere tutto quello che vuole in james bond e quindi loro gli dicono guarda hai come dire puoi dirigere il film puoi dirigere le scene d'azione ma le situazioni le gira perché sono una roba che attrae di più di un di uno 007 le dirige qualcuno che lo sa fare davvero e che di cui noi ci possiamo fidare poi tu dai i tuoi input creativi certo a come vuoi che questa cosa venga girata però per mantenere uno stile consistente su tutti i film che la gente si aspetta c'è un regista di seconda unità appositamente per fare questa cosa e per rispondere a crash bar che dice ma riescono a mantenere lo stesso stile in generale lo stile di fukunaga non 007 è lo stile di 007 non è lo stile appieno al cento per cento di fukunaga perché quello che deve fare un regista ovviamente che ha a che fare con un franchise così grosso è diciamo piegarsi che poi relativamente molte volte però piegarsi anche a quello che è il franchise io vi ricordo velocemente che pure tarantino per esempio ha girato delle scene di ar e non è che erano girate in maniera particolarmente diversa dal resto delle puntate di ar ma c'erano magari dei piccoli dettagli che erano un po la firma di tarantino però poi era una puntata di ar quindi quando un regista ha a che fare con un franchise di quel tipo si deve avvicinare a quel franchise il più possibile poi delle cose le fa fare a lui il motivo per cui non faranno mai fare uno 007 a nolan ci sono tanti motivi per cui non faranno mai fare uno star trek a tarantino esatto nel senso che ne è parlato tantissimo ma non si può fare ragazzi nel senso sono registi che è un come dire c'è un conflitto troppo grande da un lato chi fa questi film vuole che vengano fatti come dicono loro dall'altro questo tipo di registi farebbe questo tipo di film solo se giallo se li può fare roma vuole che esatto che che possono fare quello che gli pare a loro e quindi proprio una roba che non si può incontrare questa cosa mauro intanto io direi di chiudere biloba che mi fa un complimento che dice che anche in che in fix out mainetti non ha voluto registrare seconda unità perché dice che era impossibile trovare qualcuno che sapesse girare l'azione come raggeva lui però non conosceva ancora metti ringrazio tanto vuoi biloba sei molto molto dicola di tra l'altro dato che sei stato così gentile ti dico che il film uno dei film presenti nel prossimo come cazzo hanno fatto ti farà molto felice considerando qual è il tuo il tuo username comunque io direi di chiudere sono passate le ultime due ore volevo rispondere motivo per cui cameron ha sminchiato ha sminchiato harry potter dico a di dice nicola ripeto sempre quaron è stato scelto proprio perché poteva fare qualcosa di diverso e a lui è stato detto fai qualcosa di diverso a lui gli è stato proprio detto non ti piegare alla warner a noi stessi e a quello che il franchise vogliamo qualcosa di completamente diverso e questo è un caso che può succedere ovviamente in quel caso il regista dice ok allora faccio quello che cazzo mi pare sì volevo rispondere all'ultima domanda che dicevano ma giustamente james bond costano un sacco di soldi si fanno un sacco di cose perché james bond costano tanto e per l'ultimo si parla di quasi 300 milioni che ovviamente su un sacco di soldi ci guadagnano c'è un sito che si chiama denumbers.com che prendiamo quello di cui sappiamo i numeri certi che skyfall che è uno degli ultimi ok in denumbers.com dice che è il costato circa 200 milioni di dollari e il domestic box office quindi il box office per quanto riguarda il territorio della produzione quindi inglese in questo caso è stato di circa 304 milioni il box office internazionale fuori quindi dal quello domestico è stato di 804 806 milioni worldwide un miliardo 110 milioni a questo va aggiunto ovviamente la vendita dei dvd e la vendita dei blu ray per arrivare a un totale di 101 milioni e 006 quindi diciamo che tutto skyfall skyfall costato circa 200 milioni ha guadagnato in totale fra sbigliettamento è un video circa un miliardo e 200 milioni quindi alla domanda ma ci guadagnano direi proprio di sì non è uno di quei film con un guadagno assicurato perché però c'è 007 hanno un rischio perché costano tantissimo tantissimo per incassare devono considerate sempre che un film solitamente il vero budget dovete considerare per un film medio il budget più il 50 per cento di budget per il marketing per un film così grosso probabilmente il marketing è quasi del 100 per qualsiasi liberate che il costo del marketing è lo stesso del costo di produzione quindi raddoppiare almeno il costo e production budget sempre si aspetta stavo vedendo se c'erano anche questi numeri perché la notte del marketing non viene mai viene sempre tenuto un segreto e per insomma il discorso è che questi non ci sono tenete presente ecco che il problema di 007 e che i film vengono sempre a distanza l'uno dall'alto e non è una di quelle come dire di quelle proprietà intellettuali in cui sei sempre c'è sempre l'assicurazione che lo vadano a vedere tutti c'è il marco di inglese 10 e rosetta quali sono le recensioni tra l'altro per l'ultimo per esempio una chicchetta velocissima per no no time to die una cazzatella sapete tutti è stato bloccato per covip dove uscire dove uscire ad aprile del 2020 poi è successo quello che è successo quindi si doveva fare il pre estate un pezzo dell'estate sostanzialmente si sarebbe fatto che quando doveva uscire c'è la sony di mezzo daniel craig aveva un cellulare sony quando poi il film è uscito quel cellulare era vecchio e quindi hanno predisposto delle nuove riprese per dare a daniel craig il cellulare l'ultimo cellulare a disposizione penso che alla fine l'abbiano fatto in cgi se non ricordo questo non lo so però so solo che sono state fatte ancora non lo so perché di questo film l'ultimo so veramente poco perché non l'ho visto quindi non ho cercato un cazzo il nokia io l'ho notato in due tre inquadrature abbastanza proveniente io so solo che è stato fatto è stata rifatta peggio ancora nokia ok che è stata sono state rifatti degli shot per aggiornare il cellulare che aveva in mano invece che quello che è stato messo mi sono nei dettagli nel senso nei totali questo credo abbiano l'abbiano rifatta in cgi credo e poi ovviamente parte per esempio di un inquadratura strategica l'ho visto l'altro ieri me lo ricordo c'è proprio un pezzo in cui lo prende dal tavolo della scrivania di s vede proprio un dettaglio del telefono della scrivania e basta quindi poi ovviamente c'è da dire che parte dei soldi gran parte dei soldi vanno alla famiglia broccoli per una questione di diritti e da quest'anno ovviamente come sappiamo tutti le mgm che deteneva la maggior parte deteneva i diritti di 007 è stata acquistata da besos la broccoli non ha più il 100 per cento del dei diritti del film ma c'ha solo il 50 per cento la famiglia broccoli quindi adesso parte va suddivise in maniera diversa quindi il product value cambia da un certo punto di vista però 007 raga è una di quelle saghe che non morirà mai e comunque se morirà chissà fra da quanto tempo 50 anni sì il franchise di james bond è stata poi giustamente come dice leoni da quel da quel miliardo vanno tolti anche gli incassi e le sale certo quello sono i soldi che ha incassato da quel miliardo va tolto l'incasso alle sale i diritti a broccoli adesso i diritti a besos e quel bail con cazzo si chiama il marketing vanno tolto tutto una serie di cose però diciamo che un film che è costato due e ha incassato più di dieci diciamo che infatti di incassare a incassare le varie percentuali degli attori tutto una serie di cazzi però diciamo che non è un film che costa due in cassa tre costa due in cassa dieci e quindi il guadagno c'è detto questo ragazzi io vi saluto però velocemente volevo ringraziare dark s55 per i dieci mesi e ren smimmo per i tredici mesi mirco torosa dodici mesi l l 84 per gli otto mesi bar nei bar nei panovski che si appena è scritto con prime 90 dexter 90 per gli otto mesi brighe si è scritto con prime l'oxe l'oxe xe prime dario stelluti che ci ha fatto il raid lorenzo mo che si è scritto con prime lips 87 per gli otto mesi luca defra per i 50 euro grazie mille luca marco cioni no non ti ringrazio marta sm3 per i 17 mesi nowers lie per i due mesi eleonora eleonora cali 99 per i 5 euro chiara per i 50 euro anto 03 20 per i 5 mesi lite l'elietta per i 50 euro moro 14 697 per i 100 euro e 50 centesimi anto mantrulli montarulli per prime silvia 75 12 che ha regalato un'iscrizione a chiaramente silvia 75 12 che ha regalato 10 iscrizioni se non mi ricordo male nicola di si per i 50 euro un pizzarrone per i 9 mesi silvia sempre 75 12 che ha donato comunque 50 euro e tante altre persone che si sono iscritte grazie ragazzi vi ricordiamo che questo obiettivo dosta qua sopra e sono millenove siamo quasi a 2000 raga non è grazie non è che in questi cinque minuti qualcuno vuole venire la nata di roma o milano uno che dice deciso dell'ultimo ragazzi che si accaparra sarebbe carino chiudere stasera con un ultimo indeciso ma ce vengo non ce vengo a roma a milano e chiudiamo con 2.000 euro per dire dai mauro al di là di questo ricatto psicologico di giovanni vi voglio ricordare che venerdì esce la puntata di era meglio posso dire una sopra di una cazzata aspetta 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 ce l'ho scritto non me lo dire non me lo dire che ce l'ho scritto non me lo dire comunque credo non me lo dire comunque sì ok allora ce l'ho domenica eccolo eccolo che cosa dovevo dire bravo al bravo vi voglio ricordare che domenica alle ore 19 ea guarda quanto sono stato bravo giacomo pensai ciò stavamo a dimenticare questa domenica alle ore 19 non ci sarà il solito quasi quiz ma ci sarà un nuovo bellissimo format ovvero roll and movie che cos'è praticamente siamo noi che giochiamo di ruolo tenendo come base call of cthulhu il il gioco quindi la meccanica di gioco la meccanica di gioco sarà quella di call of cthulhu però giocheremo in mondi ambientati e tratti da vari film quindi ci saremo non ricordo chi nello specifico penso io giovanni ci siamo io adriano marco benedetta e poi c'è andrea franzini che è il nostro materatore che farà da master ovviamente su perdonami mi inserisco perché volevo dire anche due cose su una storia originale ambientata nel mondo di matrix perché si chiama roll and movie perché noi ruoliamo nel mondo dei film una cosa fichissima e la prima la prima puntata sarà ambientata nel mondo di matrix e l'autore della storia è gianni quindi se la storia farà schifo pigliatevela con lui andrea farà bellissima però fate gli complimenti esatto andrea farà da moderatore e ci sarà giacomo con noi in studio che cercherà un po di gestire la live cercherà di gestire la live perché io gioco gioco questa volta quindi cercherà di gestire la live e ci darà una mano nelle varie cose la live durerà x ore cerchiamo di fare un one shot prima di mezzanotte però il concetto è che la storia sarà conclusa di quella di quella partita si inizierà e concluderà entro domenica poi raga è una prova è un test e vi fa cacare smettiamo è un test cioè nel senso io ho giocato di ruolo una volta qualche settimana fa per test per provare a fare questa cosa non l'avevo mai fatto mi hanno detto che sono pure stato capace e ne sono contento però non lo sapevo io è stata la prima volta mauro giocava di ruolo marco giocava di ruolo benedetta pure io no e abbiamo fatto questa prova e ci siamo riusciti il fatto che sia one shot è comunque un test quindi cerchiamo di arrivare c'è una shot e che nei prossimi come dire nelle prossime volte dato che le persone possono aggiungersi e togliersi magari c'era qualche ospite interessa io già qualcuno l'ho trovato ad interessato quindi io vedo che non c'è nessuno indeciso che si è fatto avanti per prendersi questo questo posto al cinema vi voglio ricordare che venerdì prossimo invece su youtube esce il nuovo episodio di era meglio prima a tema e ti è detto e ce l'ho scritto me l'ha scritto giacomo ragazzi ci sono io insieme a gianni questa volta c'è sto io perché giustamente gianni per distruggere ti a chi doveva rompere i se non a me raga guardatelo sarà martedì ci sarà la la maniera di di riparlarne in editing in chill esatto ciò prima di andare via vi voglio ricordare come al solito che sia io che giovanni abbiamo canale twitch in cui diciamo una serie di stronzate come quelle che potete trovare qui e ci trovate appunto esclamativo giovanni appunto esclamativo mauro e io penso di essere live domani pomeriggio credo fra l'altro volevo aggiungere niente volevo aggiungere che io invece vado in live adesso perché ragazzi ho comprato un gioco di cui mi vergogno tantissimo ma che voglio giocare prova spara un titolo un gioco ripetimi un gioco di cui mi vergogno tantissimo ma lo voglio provare spara un titolo ragazzi non lo dite in chat chi lo sa chi mi segue non lo dice in chat vi prego fifa no peggio zio non lo so animal crossing ammazza che di vergogno perché dai che cazzo il gioco animal crossing però lo voglio lo voglio lo volevo troppo lo volevo troppo quindi questa è ricomprato no fra da blu da blu i chi 2k 7 intanto barbino tutto ciò nir ha donato 100 euro si accaparra il biglietto e arriviamo a 2000 euro grazie nir mi fatto molto felice con questa cosa abbiamo superati 2 mila euro questa sera io domani andrò in studio a dire io e mauro abbiamo superati 2 mila euro nir ti chiedo la cortesia visto che nel messaggio non l'hai scritto di contattare giacomo boria adesso che ancora credo sì però se lo contatti adesso che ancora sveglio gli dici quale anteprima vuoi se quella roma se quella a milano per favore grazie detto ciò noi adesso con la pace nel cuore non andiamo a dormire perché domani mattina che devo andare in palestra e poi devo venire in ufficio a fare la riunione per il short movie live io vado a giocare ad animal crossing new horizon vado io vado a fare petto bicipiti domani ragazzi domani mattina devo fare petto e bicipiti è sopravvalutata questa cosa è sopravvalutata il corpo almeno a 100 kg panca piana il corpo è sopravvalutato ragazzi cinque minuti vado online sul mio canale punto esclamativo giovanni se volete venire animal crossing new horizon una roba che vabbè dai noi ci vediamo domani da me punto esclamativo mauro ciao arrivederci è stato molto bello ciao ciao